Stiamo per collegarci con Giuseppe Simone che è il segretario organizzativo del Bruno Leoni Club di Bari. Torniamo in tema di libertarismo perché Bruno Leoni come molti sanno è stato, anzi come pochi sanno purtroppo è stato uno dei più grandi teorici libertari mondiali ed era italiano. Giuseppe vediamo un'immagine in bianco e nero inquietante, facciamo vedere anche chi ci sta guidando, ci sta vedendo, è un'immagine in bianco e nero inquietante, come mai questa immagine in bianco e nero? Un po' uno sferatesco diciamo. E questi sono i miei potenti mezzi, una webcam piuttosto vecchia, la prossima volta ti vogliamo vedere a colori però, devo fare un investimento, devi fare un investimento. Carissimo Giuseppe, benvenuto a questo esperimento pionieristico di Web TV Radicale, ci sentiamo da un po' di tempo, cosa è successo nel frattempo a Bari, in quel di Bari, che mi racconti della situazione barese? So che siete, no? Essendo la zona dove risiede il cuore del potere pugliese, via Capruzzi c'è il palazzo la regione, che aria si respira, spero non sia troppo omefidica insomma. Sì, no, è sempre sozza, cioè è sempre inquinata e quindi preferisco per esempio andare in campagna quando posso. Sono appena rientrato dal bosco. Perfetto. La prossima volta vi offro dell'emore se volete. Assolutamente, mi sembra piuttosto, come dire, un'offerta che non sia allettante come offerta insomma, senza sottintesi ovviamente. Allora, noi siamo, cioè noi non siamo alla frutta, ma come dire, siamo in una situazione di inattività, nel senso che dipende da, come associazione naturalmente, dipende da quello che ciascuno di noi, ciascun militante può fare. Io in questi ultimi mesi ho fatto pochissimo, tra l'altro diciamo che durante il periodo elettorale sono stato assorbito, il mio tempo libero è stato totalmente assorbito dalle le lezioni, quindi ho dato tutto quello che potevo alla organizzazione un po' delle varie attività, iniziative che si sono svolte in quel periodo. Quello che invece probabilmente farò, perché poi parlo a titolo personale, non parlo come come associazione o come segretario organizzativo dell'associazione di Bari, quello che vi posso preannunciare, assicurare, questa cosa, cioè che a stretto giro, probabilmente questa iniziativa si terrà a Bari nella seconda decade di novembre, ci sarà il primo barcamp dedicato a Gaetano Salvemini. Mi sentite? Sì, 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 forte e chiaro. Datemi ogni tanto, datemi cenno dell'audio, sì, dell'audio. Per ora procede tutto benissimo, quindi... Datemi un, come dire, chiedo scusa, datemi proprio ad illuminarmi un po', perché c'è un sole terribile che mi colpisce dalla finestra. No, infatti è un'immagine da cinematografia muta, del muto, diciamo, un po' tipo anni venti, insomma, di espressionismo tedesco. A me piace. Sono un cultore, quindi, meno male. A me piace. Tra l'altro il bianco e nero, per me, naturalmente, se ci sono i colori, ora, vabbè, faremmo una disquisizione sulla questione bianco e nero e colore. Comunque, il bianco e nero a me piace. Ovviamente bisogna giocare soprattutto sul chiaroscuro. Comunque è una questione che investe anche la concezione che uno ha della vita, se guardi bene, no? Perché poi, se vai bene o male, vedere la vita a colori, vederla in bianco e nero è anche densa dei significati. Quindi è anche una immagine della vita, no? Una metafora. Sì, ma anche soprattutto con il bianco e nero si possono cogliere, come dire, cioè le sfumature tu puoi, chiunque può coglierle nel bianco e nero e nel colore. E naturalmente il bianco e nero, diciamo, dal punto di vista artistico si gioca sul chiaroscuro e quindi sulla capacità di creare, di far, come dire, scrivere dalla luce qualcosa su dei corpi. Bisogna essere artistico. Vabbè, questa cosa... Voi mi dite che è in bianco e nero, io però vedo nel mio video, nel mio monitor, la mia immagine la vedo un po' a colori, non lo so, poi dipende neanche da... dipende da... C'è un violetto di sottofondo. C'è un violetto di sottofondo, mi suggerisce. Vabbè, allora devo resettare forse le impostazioni della webcam. Peraltro colore che fino a non molto tempo fa andava di moda, insomma, quindi... male non siamo... Non volevo apparire azzurro come un po' le provole tedesche, le costarelle ruffi, quelle cose lì. Mi sono stancato, diciamo, di apparire come il principe azzurro, piuttosto che... altro discorso, diciamo. Tornando, tornando, tornando alle, diciamo, alla iniziativa che vi stavo preannunciando, ecco, vi posso assicurare che domani dovrò formalizzare con il Comune di Bari la mia richiesta, cioè consegnerò definitivamente la richiesta di patrocinio e quindi di disponibilità delle risorse che ci sono, non denaro, perché qualcuno potrebbe pensare che vado a chiedere soldi. Io non ho chiesto e ne chiederò soldi, ma chiederò gli spazi, uno spazio che probabilmente sarà il Fortino nel centro storico di Bari e poi naturalmente il patrocinio da parte del Comune di Bari e della Regione Puglia. Non so se la provincia di Bari sarà disponibile a fornire il patrocinio a questa iniziativa, che vi dicevo sarà un barcamp dedicato a Gaetano Salvemini, che è stata una figura emblematica del Novecento, una mente raffinata. Gaetano Salvemini, perché chi non lo sa, è nato qui in Puglia, Molfetta, i giovani non lo conoscono, è stato molto apprezzato nel mondo, nel mondo diciamo anglosassone, tant'è vero che poi per questioni di, come dire, legate un po' all'assenza di democrazia in Italia, già iniziare nel ventennio fu costretto ad andarsene in esilio, ad andarsene prima in Francia, poi in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, dove tra l'altro ha teorizzato moltissimo, ha scritto moltissimo e si dice che i suoi scritti fossero stati utilizzati perfino da Kennedy quando preparava i suoi discorsi. Ora, tornando a Gaetano Salvemini, questa cosa ce l'ho a cuore da moltissimo tempo, quindi chi vorrà partecipare al barcamp, come voi sapete, è un open space, chiunque può intervenire. Naturalmente ci saranno i prodotti, nelle prossime settimane inviterò, inviterò gli inviti a persone autorevoli, forse invierò l'invito anche a Gaetano Quagliariello che tra l'altro ha scritto, e beh ha scritto un libro pubblicato dal mulino negli anni 90, se non sbaglio, se fate una ricerca su ibs.it trovate la scheda di questo libro. Gaetano Quagliariello ha scritto un libro su Gaetano Salvemini ed è pubblicato, ed è tuttora in libreria, è stato pubblicato dal mulino, dall'edizione del mulino di Bologna. Siccome non ci sono pregiudizi, se viene e decide di intervenire, di raccontare qualcosa su Gaetano Salvemini, sarà un'occasione interessante per ascoltarlo, se dice puttanate ci saranno pure i dissensi, eccetera, eccetera. Comunque, spazio libero e probabilmente questo spazio durerà, penso, due giorni. L'iniziativa si dovrebbe sviluppare in due giornate, ovvero in un giorno e mezzo, a partire dal sabato e a terminare, a finire di domenica. Il tutto è previsto per Giuseppe Settembre? Allora, domani mattina dovrò consegnare una scheda sinottica all'assessore, una scheda di questo progetto e quindi ho inserito in questa scheda e nella richiesta, che faccio a titolo personale, io non la faccio come associazione radicale o come... In questa scheda ci metterò un intervallo di tempo, perché naturalmente bisogna vedere anche la disponibilità della sala, eccetera, eccetera, che sarà compreso fra la prima decade, diciamo nella prima o seconda decade del mese di novembre prossimo, 2010. E naturalmente, siccome ci sono delle persone che ci stanno ascoltando, se a qualcuno che ci stanno vedendo, perché io sono abituato come dire... Alla radio... No, sono abituato alla radio e quindi mi sfugge questa cosa del video adesso. E imparerai ad apprezzarla. E beh, tutto dipende dall'esercizio, se uno si cimenta nelle cose e poi si abitua. Ti danno dell'esistenzialista, Giuseppe, dalla chat. Ti danno dell'esistenzialista, eh sì. Così sei troppo esistenzialista. E vabbè, che ci devo fare? Io sono fatto così, cioè non è che... Ma vabbè, al di là dell'esistenzialismo, ma di che... Inquadrati meglio però, Giuseppe, scusami, inquadrati un po' meglio, perché ti vediamo... Così va bene? Questi sono gli spam, mi vedete? Sì, sì, ok. Allora, tornando alla iniziativa che si va diparando, innanzitutto invito tutti coloro che ci stanno vedendo, ascoltando, ad iscriversi al gruppo su Facebook, se ci tengono a questa cosa, perché poi iscrivendosi al gruppo, io quando faccio qualcosa immediatamente posso inviare il messaggio a tutti. Giuseppe, un consiglio, magari se crei, hai intenzione di creare un gruppo su Facebook... No, c'è, c'è già. Penso che ti converrebbe creare anche una pagina, perché molti non si possono iscrivere ai gruppi, pur essendo invitati, perché hanno superato il limite del, diciamo, del numero dei gruppi. Quindi creando una pagina, una pagina ad hoc, si può, diciamo, cliccando su i like, accedere in qualsiasi momento. Capito? Si può accettare, diciamo, l'iscrizione alla pagina. No, ma diciamo, nei prossimi giorni preparerò proprio un mezzo sito dedicato al Barcamp, però ecco, su Facebook c'è un sito dedicato a Gaetano Salvemini, anzi, se qualcuno mi vuole dare una mano, può inviarmi pure così un link, un riferimento, così possiamo lavorarci a più mai, perché io non posso fare 300.000 cose nello stesso tempo. C'è questo gruppo a cui mi pare che hanno aderito 500-600 persone. Ah, non è male, buon riscontro. Io, francamente, non l'ho curato bene perché non posso fare tante cose, però se qualcuno vuole, come dire, lavorarci, ben venga. Se mi mandano una mail o qualche riferimento, poi ci possiamo lavorare a più mani. E poi penso che dovrò, magari ci fossero anche altre persone disponibili a lavorare insieme. Questo è il problema dell'associazionismo, perché poi noi parliamo, 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 armiamoci. È partito. È partito, è partito il colco. L'importante è che non sia di partito. Di partito, voglio dire, scritto unito e anche diviso. Su queste cose ci misuriamo, nel senso che non si può sempre pretendere che le cose siano perfette e poi c'è sempre una persona, uno, due persone che tirano la baracca. Lo stesso dicasi per l'associazione di bar. Per quanto sul piano delle ferie, invece, ora tornando, chiudo con la questione del barcamp, del Salvemini Day. E torno un po' alle cose nostre, diciamo, le cosette nostre. Per quanto concerne le vacanze, io ho già preparato le valigie. a Bari, in via De Gasperi, se non sbaglio, 271. Che è una sede, diciamo, istituzionale, ecco, diciamo così. C'è molto verde, devo dire che intorno c'è molto verde, però all'interno non c'è l'aria condizionata. Però si sta al fresco. Sì, sì, è abbastanza ventilata la struttura, non ci sono, come dire, molte... è ventilazione naturale che è interessante, perché è un po' quella che si assapora quell'atmosfera da chiostro, da convento, da monastero. Anche se poi in realtà ci sono letti a castello pericolanti pure, con delle saldature che fanno rabbrividire, cioè qualche letto a castello potrebbe... qualche saldatura potrebbe staccarsi e qualche branda potrebbe cadere addosso a qualcuno. immagino che avessi capito dove è. Pochi comfort, diciamo, pochi comfort, ovviamente, no? No, cioè l'unico comfort è la ventilazione naturale. Quando, diciamo, ci sono le grate aperte, le finestre con le grate aperte, perché poi se si chiude... questa è la struttura di Bari, stiamo parlando della casa circondariale di Bari. Per chi non l'avesse ancora capito, diciamo. Per chi non l'avesse ancora capito, perché qualcuno potrebbe pensare veramente alle vacanze. E quindi per le nostre vacanze probabilmente verrà Don Volpi pure a farsi una mezzagiornata di relazioni. E' il cappellano del no. No, a dire il vero, la Gazzetta del Mezzogiorno, una volta così per errore, perché poi quando scrivono sono molto puntigliosi e precisi, lo avevano indicato come il segretario regionale di Antigone addirittura, per errore. Poi naturalmente non abbiamo fatto fare la correzione, l'errata corrige, ma era stato addirittura scambiato per il segretario regionale dell'Associazione Antigone. Probabilmente verrà pure Don Volpi, tutto poi dipende dai suoi impegni. Ora, sentivo alla radio qualche giorno fa che era in corso, come al solito, l'iniziativa delle carceri a Ferragosto, un'iniziativa che organizza radicali italiani ogni anno, e non lo so se anche quest'anno ci sarà il giro di ispezioni così come è stato fatto lo scorso anno, cioè con i parlamentari che danno la loro disponibilità a visitare le carceri. Qualora ci fossero dei parlamentari disponibili a venire con noi, allora diciamo noi ci aggreghiamo. L'hanno passato ricordiamo che fu una iniziativa massiccia, soprattutto parlamentari PD, Italia dei Valori. Sì, ci furono delle visite piuttosto accurate, perché noi per esempio io e Don Volpi andammo nel carcere di Bari con l'onorevole Capano, invece nel carcere di Turi andò un parlamentare dell'IDV, la Zazzera, se non sbaglio, con Pasquale Marino, che è il tesoriere dell'associazione di Bari. Nel carcere di Bari per esempio ricordo che facevamo una visita molto accurata, visitavamo tutti i piani, entrammo nelle celle anche e la situazione già lo scorso anno era veramente precaria. precaria. Chissà, forse abbiamo superato la Turchia dal punto di vista del degrado, perché qualche anno fa si diceva che le carceri turchi erano… Eh sì, c'era quel famoso film, no? Sì, secondo me oggi le carceri italiane, almeno lo dico rispetto a quello che ho visto lo scorso anno, oggi le carceri italiane, insomma stanno salendo, risalendo la top ten delle negatività nel mondo. Naturalmente, cioè se queste cose uno non… se le diciamo noi come radicali, dicono sempre i soliti, esagerano sempre, però in realtà è una situazione che fa veramente rabbrividire, io forse devo stare raccontando così con disinvoltura, ma fa veramente rabbrividire. Cioè fa veramente… a me, io se immagino che nelle celle c'erano otto persone con dei letti a castello e con l'ultimo detenuto che si trovava sull'ultima brandina, che non poteva proprio alzarsi, se quello per esempio di notte aveva degli incubi e provava ad alzarsi, sbatteva la testa contro il solaio, cioè… e veramente mi dà l'idea dei loculi, cioè di questi corpi che vengono messi sotto chiave, reclusi, accatastati in questi… ecco, forse un loculo, se ci pede pure è una verifica che devo fare urbanissima, forse l'oculo ha uno spazio maggiore, cioè un cadavere che è naturalmente immobile, ci possono anche essere casi in cui c'è il rischio del morto. Andiamo in un altro campo, ecco. No, no, ma il loculo, io ho l'impressione che il loculo abbia più spazio per il riposo del canale. Comunque la concezione della vita sottesa è la stessa, insomma, no? Volevo dire alla fine poi si considerano un po' come dei morti da nascondere, con vergogna, eccetera, quando… Sì, la, come dire, la munnezza che viene nascosta sotto al tappeto, perché poi in realtà noi abbiamo comunque delle… cioè abbiamo di fronte delle persone che hanno commesso, alcune di queste hanno commesso dei reati, altre sono in attesa di giudizio e questa è la cosa ancora più grave, perché se uno è fino a prova contraria, se non c'è stata una sentenza, se è in attesa di giudizio, quella persona potrebbe anche essere innocente e quella persona innocente sta vivendo veramente nell'inferno. È veramente… Piranesi con le sue… Le acqueforti. Sì, le acqueforti di Piranesi, le stampe, le carceri, quelle visioni straordinarie che aveva, molto belle, che ispirano e hanno ispirato soprattutto molti architetti. Piranesi, tra l'altro, ispira molto in questo momento. Cioè… C'è molto da… Bisogna riflettere, ma c'è molto da fare. Cioè noi… Io non vedo prospettive in Italia, soprattutto nel sud poi. Se si va avanti così, naturalmente il disagio sociale crescerà sempre di più, aumenterà la povertà, quindi molti delinquiranno. Ma perché d'altronde oggi qualcuno, pur di non rinunciare a quello che… Ai beni voluttuari, per esempio, le persone che non hanno la disponibilità economica, vive di espedienti, cioè si vive di furti, furtarelli, di spaccio anche. Quindi tendenzialmente le carceri, così come siamo messi, dovrebbero essere sempre piene in questo modo. Al di là dei sogni e dei megaprogetti che, come dire, che ci prospettano. Addirittura sentivo, leggevo tempo fa, di un progetto per la costruzione di un carcere galleggiante nel porto di Bari e chissà che cosa avrebbero dovuto costruire. Forse per far lavorare la Fincantieri, una mega… Probabilmente, sì. Sempre quel capitalismo assistito, no? Che regge i padroni del vapore di Ernesto Rossiano a memoria, no? Alla fine sono sempre quelli che pigliano i quattrini, mentre l'imprenditore alla fine poi si fanno il mazzo per… No, ma questa cosa del carcere galleggiante, poi, è bella, straordinaria perché poi c'è questa nave, diciamo, che gira per i porti e raccoglie, li tiene sempre, diciamo, sulla… Fantasia perversa, adesso. Senti Giuseppe, siamo quasi arrivati alla fine della nostra trasmissione, non per essere brusco, però. Ci siamo, siamo belli. Siamo in fine di trasmissione, quindi ci riprometriamo, no? Allora tolgo il disturbo. No, no, nessun disturbo, figurati, anzi, voglio dire, ti abbiamo contattato per descriverci un po' le ultime cose della terra di Bari, insomma. Diciamo che lo spazio per la scimmia e il tempo per Space Monkey, è close, no? Vabbè, sì, ovviamente, immagino un po' forte, diciamo, comunque. Un attimo che qua mi danno ampi cenni dalla regia. Ciao Giuseppe, aspetta che passano un auricolare salvatore, non ti voglio spogliare dagli auricolari. Io mi sono riposato un po', però ho seguito la vostra conversazione che è stata piacevolissima. Pur nella gravità degli argomenti, diciamo, che abbiamo scherzato su argomenti anche… Ora dobbiamo parlare… Giuseppe, mi senti? Sì. Dicevo, dobbiamo parlare, dovete organizzarvi a Bari per fare un punto regia conduzione, così vi fate una bella rubrica sull'argomento che volete, ne parli insieme ad Aldo Biagini, a Pasquale Marino, al grande Don Volpi, vedete di organizzare un punto regia conduzione da Bari. Ultima cosa, Giuseppe, in chat mi chiedono se potete organizzare qualche cosa sulla figura di Bruno Leone, come tu ben sai. Allora, l'associazione… sì, rispondo subito a chi ha fatto questa domanda. Francamente, tempo fa avevo preso contatti con… anche con Raimondo Cube, due altri, per organizzare una conferenza tematica su Bruno Leone, sulla figura di Bruno Leone, però poi in realtà non trovo interesse… cioè, guardate, qui nessuno sa chi è Bruno Leone e quindi è come dire, parlare con chi? Ma anche con chi ha studiato, non lo so, diritto, giurisprudenza, scienze politiche. Nessuno, tutti mi chiedono ma chi è Bruno Leone? Giuseppe, il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo chiudere perché altrimenti se già abbiamo sforato di due minuti, altrimenti ci salta tutto il palinzesto perché… Va bene. Giuseppe, comunque ripeteremo il collegamento se sarai così gentile e così disponibile, magari anche un'altra volta in presenza di altri compagni. Che ne dici? Se posso, naturalmente, se posso, se sto qui perché poi per fare i collegamenti ci vuoi il computer. Io prima stavo in campagna, d'estate tra l'altro faccio la manutenzione del verde, se no… Ok. Giuseppe, ti salutiamo allora, torniamo in studio da Lecce. Bye bye. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. E prepariamoci per il prossimo collegamento che è quello con Dimitri Buffa, lo chiamiamo subito in diretta, vediamo se ci sento. Intanto, nell'attesa, cominciamo a trasmettere, a preparare per la trasmissione di un video che dobbiamo fare, naturalmente. Aspettiamo intanto che… Eccomi. Ciao Dimitri. Ciao Dimitri. Senti bene Dimitri? Sì, mollevo l'audio là per… Ciao Dimitri. Sì, togli l'audio della web tv perché altrimenti ce l'edito.